prima io farei secondo secondo non mi muovo più devo andare su da dove c'è il vito e di lì si fa fatica no che c'è il buco già da qua è meglio no di qui non si passa ma si smacca dai vito ok Grazie a tutti. A zero. Andiamo? Oh, mi tocca passare sul tombino, forza, mi chiede, anche di spino. No, se riusciamo usciamo dall'alto. E allora? Dai, dai, dai lì su a quello che va bene. Appoggia al davanti e poi esci. Appoggia sul davanti, Pietro. L'avevo vista che non c'era. Aspetta che arriva Spampi, vediamo dove passa. Metti sul davanti, Spampi, metti sul davanti lì e poi esci. Dai, su. Aspetta che spengo, così sentiamo che spengo. No, no, gira tanto. No, io sono passato alto, eh. Fate che passi anche da qua, ci esci da lì, eh. Vai. Aspetta che spengo. Oh, vai già a cercare quella più difficile, oh. Che ossidione che è. Vai, 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 Pietro, vai. Eh, ma un pezzetto dobbiamo andare in là, eh. Ah, un pezzettino, vediamo dov'è. Dobbiamo trovarne uno che va in giù, vedi? Questo. Aspetta, aspetta. Dobbiamo andare a piedi un primo pezzettino per capire dove...